Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Giovanni capitolo 10 versetti 31 a 42. I Giudei volono a tutti costi eliminare Gesù, togliere Gesù di mezzo e nel brano di stamattina Giovanni ti informa che i Giudei raccorsero le pietre per lapidare Gesù. Gesù richiese ma per quale motivo volete lapidarmi? Che cosa ho fatto del male? Per quale opera volete lapidarmi? I Giudei dicono non ti lapidiamo per le opere compiute ma piuttosto per una bestemmia perché tu che sei uomo ti prendi per Dio e Gesù si appoggia su Salmo 82 per giustificare un po' la sua affermazione. Nel Salmo è scritto che voi siete dei, Dio chiama i suoi figli i dei. Allora per Gesù ma se a tutti quanti Gesù chiama dei, Dio li chiama dei, quanto più a colui che egli ha mandato. Gesù dimostra una volta il suo legame stretto con il padre e per i ha potuto mettere le mani su di lui perché la sua ora non è ancora arrivata. Il brano non lo dice ma è così che si suppone perché finché Gesù non salirà sulla croce, finché Gesù cioè la sua ora non arriverà nessuno gli metterà le mani addosso. Ecco questo è il nostro brano di stamattina. Carissimi da un po' di tempo stiamo seguendo un po' la discussione, il dibattito tra Gesù e i suoi avversari soprattutto i giudei che fin d'ora non ammettono che Gesù è figlio di Dio per loro e qualsiasi uomo e cercano sempre i motivi per accusarlo, condannarlo perché nessuno può bestemmiare, nessuno può dire falso, nessuno può pretendere essere figlio di Dio perché Dio nascerà quando il cielo si squaccerà. Questo non è avvenuto quando Gesù è nato e dunque per i giudei Gesù non è figlio di Dio e Gesù li invita a vedere le opere. Se non credete in me, almeno le opere, credete nelle opere. Se non credete che io sono figlio di Dio, ma vedete le opere. Infatti per chi è abituato a leggere la Sacra Scrittura, soprattutto i Vangeli, si renderà conto e più volte, diciamo, più volte la gente rimaneva stupita delle meraviglie di Gesù, delle meraviglie, del suo inserimento, dei miracoli, di tante cose. Anche del brando di stamattina che Giovanni non ha fatto i prodigi, ma tutto ciò che ha detto su questo uomo era vero. Dunque la gente riconosce comunque in Gesù qualcosa di particolare, non parla come gli scrivi, come nessuno compie i miracoli che tu hai compiuto, diceva Nicodemo. Ci sono degli episodi in cui la gente comunque riconosce la superiorità di Gesù, il primato di Gesù su ogni cosa, ma il cuore indurito, i giudei rifiutano di credere in lui. Ecco, cari signori, quello che noi subiamo oggi come Gesù, la gente ci crederà sulle opere, non tanto su come noi parliamo, ciò che diciamo, sì, potremmo parlare benissimo, potremmo raccontare le belle cose, ma la gente ci crederà dalla testimonianza. Le opere che compiamo sono queste opere che darà credibilità alla nostra identità cristiana, sono queste opere che diranno di noi che veramente siamo discepoli di Cristo, come nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, quando ad Anciocchia per la prima volta hanno chiamato i discepoli e cristiani, perché il loro modo di vivere proprio rifletteva quello di Gesù. Ecco, carissimi, inutile di lamentarci che nessuno va in chiesa oppure io invito i miei di andare in chiesa, ma non ci vanno, è vero, non possiamo neanche cessare di invitare gli altri, ma la nostra forza verrà da come noi ci comportiamo, da come noi, dalle opere che noi compiamo e da lì che la gente valuterà la nostra identità, la vera identità cristiana. Allora che lo Spirito veramente ci aiuti a compiere le opere buone, senza pretesa, senza attirare l'attenzione di nessuno, senza cercare la vana gloria, ma solo compiere, perché è il nostro dovere di compiere un'opera per la gloria di Dio e la nostra salvezza. Che lo Spirito veramente ci aiuti. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.